... Sì, lo vede? Sì, che l'hai? Io non lo ho detto. Il tempo è scaduto? È scaduto. Questo lì lo potrò farlo anche da solo. E' beccato qua. E' così, mi morirebbe. Bosche. Lo siete? Lo sapete? Avanti! 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 cosa succede che bisogna? Ma se sono stati contenti. Ma rim Sarra. Sembra mia! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.